Si è concluso sabato 28 e domenica 29 luglio il Motor Food Festival, l'evento organizzato dall'Associazione Sassonia, visto nei due giorni dedicati un programma ricco di iniziative legato al settore dei motori e dello street food, con food truck e stand dislocati lungo tutto Viale Adriatico, nel quale hanno presentato variegati panini gourmet e prelibatezze legate al cibo di strada. Esposizioni inoltre di motori e motori Davidson a cura del gruppo Black Devils di Pesaro per tutti gli appassionati delle due ruote. Tanto lavoro, tanto caldo. Quest'anno abbiamo provato a dare una novità alla Sassonia con l'intervento di motociclisti e un concerto, animazione per i bambini. Oggi pomeriggio c'è stata una simpatica gara di pizza presso l'attività Braccino e abbiamo cercato di creare una novità e cerchiamo di farla crescere nel tempo. Ai più piccoli un evento invece ludico ed educativo promosso dall'associazione Motiamoci per sensibilizzare l'approccio all'educazione stradale. I bambini da 4-12 anni vengono con noi, prima cosa mettono il casco ovviamente, salgono con noi, viene fatta una spiegazione sia teorica che pratica della cartellonistica e l'uso del veicolo che in questo caso è un quad a quattro ruote, non a motore ma ad impatto elettrico. Ad aglietare le serate infine la rock band degli ECOVERTIME sotto la tensostruttura di Sassonia. Grazie a tutti.